Salvate la prima clip ragazzi Chi sarebbe? Oh cazzo Ma chi sei tu? Paradigma Oh Saluti Paradigma Un minuto 50 Ma Francesco non puoi dire tipo Tra un minuto salteremo tutti in aria 48 47 Oh fai la live Fai la live È già in live Ma io ho già registrato la prima parte del video giuro Una parte già registrata Oh ci lanci 30 secondi Ma vedo dove stanno messo le giostre Qualche volta 10 Via 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 Tutti dietro Via di frego No 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 10 9 8 6 Aiuto 6 6 4 9 8 7 6 6 5 5 5 4 3 2 2 1 1 Via Via Ci lanciano 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14 15 15 15 16 16 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 15 20 21 20 21 21 21 21 22 22 22 25 22 23 23 23 24 24 24 24 25 se non è quello che sta sparando i razzi è sappiatelo distruggere carri armati distruggere ca quanti sono ma manco in germania nel 1945 era così via 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 forte me lo ricordo quel posto schiaccia schiacciate schiacciare di schiacciare di schiacciare perché il cuore cupo perfetto abbattuto caro distrutto parlate parlate oh parlate davanti a noi dai fuoco sparare sparare perché non parlavate per un attimo oltre al fiume oltre al fiume io sparo i missili ma perché voi non parlate oh mitraglietta nastro ma non parlate sto parlando ma gabri non parla ragazzi davanti a noi i missili sparano razzi da tutte le parti gabri parla ci sta distruggendo la vado no non ci posso credere non ci posso credere il nostro match no purtroppo non ci riceve e non c'è niente da fare sono posti hai presente se ci fanno andare noi sui camion oh rigo il robot della season 9 eh lo so è questo non venirevate ancora accorti ecco lì grande io la banana immagino che scende il papà del capoccia no 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 quando un lancia le cose giù dalla finestra a scuola schiaccia 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 se quant'è buona dai lancia la molotov io la volevo sto d'accaica ragazzi guardate le mitragliatrici io ho punto i carri armati asciutto veloci controllami spaccare tutto spaccare tutto tutto distruggere vista distruggere vista dico i missili ci stanno proteggendo eh ragazzi ci sono i robot ci sono le robe che ci proteggono la fortezza no che bella season che peccato che mi son perso buona parte della stagione perchè non giocavo per un po' se no questa qua è una bella stagione mi sa ragazzi i crucieri a conici c'è un po' di roba fuoco attenzione tira sulle ascelle la spada missili io penso ai due civili concentrati sulle forze di terra ah dobbiamo pensare alle forze di terra tipo missili e carri armati dai dai ragazzi sparare sparare a vista ma perchè voi non sparate non sparate tanto come me non ci posso credere non ci ha messo un'ora per dare una spadata ha scritto ma mike lo sta scrivendo in chat ci sono feriti scusate se no non sembra contenta di vedermi si 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 posing si 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 No, no. ma no non voglio discutere questo avanti con Giovanna Su ricopro io dietro oh attenti senta e adesso me lo dici edu ti ho detto sei sicuro che se lo faccio vado a curare l'intento distruggerò farà la vista ma francesco mi sta parlando non fa un cazzo caro mate non devi farlo di solito me lo trafatti quali voto sta tornando che mani che mani portato per l'anigma chi sarebbe il punto zero è concentrato su ceno questa è la nostra occasione per trovare guardiamo guardiamo e noi ora non è qui non abbiamo tutto tempo vuoi per i cristalli faranno esplodere il punto z non è qui non è qui questi mi smuriteli ho sparato ai cristalli ecco io l'ultimo ero ero per parla ci penso io no 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 no